Anche questa volta un modello cresce. È la BMW Z4, un roadster che ha superato i 4 metri e 30 di lunghezza, guadagnando nel volume del bagagliaio ora di 281 litri. Al contrario di quanto si potrebbe pensare però il passo invece è stato accorciato e le carreggiate allargate, guadagnando ancora in tenuta di strada e agilità. Rotato anteriormente di sospensioni a quadrilatero e dietro di un sistema multilink a cinque bracci, la nuova BMW Z4 Roadster ha di serie lo sterzo adattivo che modifica dinamicamente tanto l'assistenza quanto il rapporto tra angolo volante e sterzatura effettiva delle ruote per rispondere alla situazione in corso. Il cambio è automatico sequenziale Steptronic Sport a otto marce. Per i motori invece si può scegliere tra il top, costituito dal classico 6 cilindri in linea di 3 litri da 340 CV o il 2000 declinato nelle due versioni di potenza, 197 o 258 CV. Tutti i motori sono dotati di filtro antiparticolato e omologati secondo la recente normativa Euro 6D Temp. Il comportamento dinamico, come di consueto, si può regolare tramite tre diversi driving mode che influiscono su motore, trasmissione, assetto elettronico e differenziale. La dotazione di sistemi di assistenza alla guida infine comprende l'evitamento collisioni e investimento pedoni, oltre alla frenata automatica ad emergenza, ma ha tanto altro ancora. I prezzi partono da 43.800 euro per la versione base e raggiungono i 66.800 euro per la versione top.